Eeeh what's up a tutti ciurma e benvenuti raggio carina in questo nuovissimo episodio su Child of Light Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 25 like per questo nuovo video Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi abbiamo acquisito l'incredibile potere di volare Quindi riusciamo a volare, incredibile ma vero E abbiamo incontrato un nuovo personaggio che si è unito alla nostra squadra Sarebbe a dire Rubala, la chiamerò così Dorena Matti, Rubala Rubala Ok allora caro luciolino noi stavamo tornando indietro Dobbiamo ritornare fino all'altare dove ci siamo effettivamente risvegliati Il punto è non so se sfruttare i nemici che incontriamo per cercare di aumentare il nostro livello Non lo so fatto sta che magari Ecco per esempio qui ragazzi non ci eravamo andati la volta scorsa in questo passaggio Tre virgolette nascosto chiamiamolo così Uh tre nemici addirittura porca vacca Allora Rubala è la prima ad agire direi Direi che utilizzeremo colpo ragazzi su questo qui volante Poi utilizzeremo luce di stelle sul personaggio Fantasmico chiamiamolo così Ve lo sono appena inventato il termine ma dai fa niente Almeno è sparito alla prima Lucciolino Usa i tuoi poteri e vabbè non servi da niente Ok direi che utilizzeremo colpo di nuovo Contro questo e dopodiché ragazzi Mi chiede di nuovo Rubala ma è un portento Sta ragazza È fantastica Ok purtroppo mi ha rallentato Aurora ragazzi Però Rubala ha fatto il tempo ad interromperlo ragazzi È una cosa eccezionale Davvero eh Pazzesco Almeno abbiamo guadagnato un po' di esperienza Avrei potuto prendere effettivamente fiori luccicanti Ma fa niente Apriamo questo scrigno Ok pozione magica Perfetto Ok cucciolino Vabbè li prendo io Stai tranquillo Prendiamo tutto quello che possiamo prendere Dirigiamoci Dove dobbiamo andare Allora anche qua c'è qualcosa Guardate un po' Qua c'è rostata Per caso non è che ero arrivata da qua no Oh qua c'è pure uno scrigno E che effettivamente ragazzi sapete benissimo Che io e il mio senso dell'orientamento Facciamo altamente schifo Per cui mi auguro che ci perdonerete per questo Apriamo questo qui Lucciolino tocca a te Perfetto Perfetto Zaffiro grezzo Questo pure possiamo aprirlo Zaffiro grezzo Stiamo trovando un sacco di scrigni Che ovviamente Non avevamo potuto trovare e aprire La volta scorsa ragazzi Per cui qua da dove sono appena arrivata Probabilmente stiamo andando verso la direzione giusta Alto si levava all'altare Benedetto Dobbiamo andare oltre La dama ci ha detto Va bene Qua c'è un nemico Non avevo intenzione di effettivamente Entrare in battaglia Ma vabbè Fa niente dai Fa niente Allora Proviamo ad usare il raggio di luce contro uno di sti nemici Ragazzi Vediamo che succede Se sono vulnerabili alla luce No No Non sono vulnerabili alla luce Vabbè fa niente In ogni caso il ragnazzo ci colpisce Ci ha interrotto l'attacco di Rubella Ci siamo proprio Ai 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 Vedrai saranno guai Ai ai Continuiamo a colpire Intanto l'ucciolino magari Prendi un po' di pallette Ok Ah grande Aurora Che l'ha schivato Però si becca l'artiglio del ragnazzo Che meraviglia Allora qua ci sono altri fiori Attenzione Prendi tutto quello che puoi prendere l'ucciolino Che ha fatto Ma rallentato il maledetto Ok questi stanno per ispirare ragazzi Sono gli ultimi colpi Almeno mi auguro Anche Rubella Impressionante ragazzi Cioè va velocissima eh Quando attacca È pazzesca Va bene Si continua A farmi perdere vita Tu sia maledetto Vai Rubella Direi che puoi occuparti anche del ragnazzo Che è resistente il ragnazzo eh Aia Uish Non ci rimane molto Rubella Direi che la cosa che puoi fare È di Curare la piccola Aurora Mentre lei le dà il ragnazzo Wow Grande raga Uuh E anche Rubella sale di livello Grandioso Anche la piccola Aurora Punto abilità Perfetto Sono abbastanza soddisfatta Non è stato voluto questo incontro Ma poco importa Vediamo un po' Che cosa possiamo prenderci Con questi punti abilità Questo anti alterazione ragazzi A me non interessa poi tanto Però temo che sarà l'unico modo Per poter accedere poi ad altre cose Ok Comprerò questo E ovviamente l'aumento permanente Dei punti F massimi di 5 Ok Allora con lei ci siamo Con la piccola Aurora Questo è interessante Aumenta in modo permanente La magia di 2 Direi di sì E anche la difesa magica Ok Intanto continuiamo a potenziarci Sempre più ragazzi Probabilmente siamo Sulla strada giusta Infatti io qua sono scesa Ma probabilmente Avrei dovuto Andare più su Più su Più su Più su Ok Dovremmo esserci Credo Mocciosa Di qui non passerai Nella mia pancia Tu finirai Avanti Togli Dai O una fine peggiore Farai Wow La piccola Aurora Oh porca vacca Non si lascia spaventare Da quest'orco Spaventoso direi Non so se effettivamente Questo possa essere utile Contro L'orco Effettivamente Direi di provare a usare questo O la rubala Direi di colpire anche lui Anche se Comunque dovremmo togliere Dai piedi anche questi altri nemici Ragazzi Perché potrebbe essere un problema Allora Intanto Colpiamo anche questi Oh merda Che ha fatto Ok Andiamo io dentro A sti lupi malefici Ok così Tu rallenta un po' Perché mi dà prima La precedenza Alla La grande rubela E direi ragazzi Di toglierci Prima dei piedi Questi Ci siamo quasi Spero almeno Ecco non ho fatto il tempo A fermarlo Aia Ci ha liberato ragazzi Porca vacca Ok allora Il primo è andato Cerchiamo di prendere qualcosa Che ci possa aiutare Ci siamo Ok Andiamo dentro a questo Aia Ci ha interrotto Non ci siamo Non ci siamo Merda Dovrò Wow Quindi l'ucciolino Può esserci utile Per curare i nostri amici Questa è una buona notizia Ragazzi Ovviamente Il piccolo l'ucciolino Non è che può Resistere per sempre Per cui Diamo gli dentro Ovviamente l'ucciolino Tiene un bel tempo Per Ricaricarsi Direi di Da gli dentro Ancora con questo Aia 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 Da Forza Oh Lo colpisce Quattuno Merda L'ha schivato Bastardo Prendi questo E deve mancare poco Niente Non credo che farò il tempo Comunque ragazzi Eh Vabbè ormai loro Possono attaccare Aia 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 E ci ha interrotto Ci ha interrotto Sì però Dovrei morire Ma quanto è resistente E sto stronzo Sta E lì per morire Raga Ok Questo è andato Non farò Non credo che farò Il tempo Con Una Bella Anzi forse Sì ce l'ho fatta Per fortuna Sono riuscita Direi di provare Ad utilizzare Questo raggio Di luce Ragazzi Sarebbe la prima Volta Se non sbaglio Ok Con rubella Forse faccio In un'altra Oggetto Oggetto trovato Polvere Dei punti Vitali Perfetto L'albero di spine Della dama È l'indizio Dobbiamo solo Passarci Attraverso Dopo di te Altrimenti Sono perso Ok Quindi questo passaggio Ragazzi Ci porterà All'albero Di spine Ovviamente Direi di utilizzare I punti Abilità Questo potrebbe essere utile Aumentare la ripesa Magica Di 5 Mentre rubella Direi di comprare L'aumento della difesa E l'aumento della forza Ok Avanti così Vorrei soltanto Un attimo Dare un'occhiata Di sopra Perché Elisa Mi ha detto Che appunto Si potevano trovare Queste rivelazioni Che Non è che raccontano Parti importanti Di storia Però magari Potrebbero essere importanti Adesso Non mi soffermerò Ragazzi Se voi volete Leggerlo Ce l'avete qui Potete mettere in pausa Il video Niente Più su ancora Non c'è nulla Infatti guardate caso Ho trovato Una rivelazione Giusto qua Direi di andare All'albero di spine Ragazzi E vedere cosa ci attende Dall'altra parte E ora è disponibile La mappa di Lemuria Che ti permetterà Di spostarti rapidamente Da un luogo all'altro Apri il menu di pausa Per accedervi Perché questo è Molto interessante Infatti La mappa È qui ragazzi Eccoci qua Ah ci dice anche Quanti scrigni Sono presenti Eccetera eccetera Interessante Questa era la foresta Dove eravamo adesso Ragazzi Possiamo usare Ragazzi Questa polvere Per aumentare In modo permanente I punti vita Direi di utilizzarla Su ovviamente Aurora Allora Vediamo un po' A sinistra All'albero di spine Perfetto Qua sopra c'è qualcosa Sembrerebbe proprio di no Per cui Non ci rimane Che andare A sinistra Oh mio dio Dove vado A destra A sinistra Questi sono rovi Ok Questo posso aprirlo Pozione magica Perfetto Intanto continuiamo Ad accumulare oggetti Che potrebbe risultare Molto importante Se vado qua sopra Oh merda Questo all'area di essere Un nemico Molto minaccioso Però lì sotto c'è uno scrigno E se Alla guardia dello scrigno C'è questo Nemico Probabilmente Che cosa significa Oddio E sto ragno Ok raga Questo potrebbe essere Un grosso problema Non so se magari Questo può essere utile Per questi ragni Non lo so Aia Ma pure interrotto Il bastardo Proviamo Non so se siamo All'altezza di questi nemici Ragazzi A sto punto Cioè me l'hanno pure Paralizzata Porca vacca Ok facciamole Recuperare un po' di Raga È È È un problema Io non mi aspettavo Di trovare Così tanti nemici Avete visto come l'ha schivato No Non so se l'avete visto Come l'ha schivato Io volevo provare Ad usare Ecco Stacca Ecco Me l'ha interrotta di nuovo Porca vacca Oh Posso provare Ad usare La polvere di stelle Recupera un po' di vita Poverina Direi di usare Ragazzi Questo perché Pappiamo un po' questo Non so quanto resisteremo Cioè volevo provare A usare La luce di stelle Sui ragni Però Cioè non mi lascia Mai il tempo Per farlo Ok Ecco Ai 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 Questo è un grosso problema Ok questo sta per morire ragazzi Siamo quasi È andato Rallenta un po' te Perché te devo Sfragna Dai Aurora Dai Aurora Quanto gli manca Sto strozzo Minchia è stato più veloce De De rubella Pensavi di essere più veloce De rubella Minchia l'ha schivato Bastardo Bastardo Vai Ok È stata dura ragazzi Spero Che ne sia valsa la pena Buon decimo compleanno Non so perché Vabbè almeno Siamo saliti di livello Vediamo cosa contiene Questo scrigno Così Nascosto Un tonico curativo Ma che davvero Mi stai a dire Cioè sono venuta Ho fatto sto casino Per un tonico curativo Davvero Vabbè Qua c'è un altro scrigno Vivifica Perfetto Allora io ero venuta da qua Da qua Giusto Sì Perfetto Per cui Cioè Ragazzi Ci sono così tante strade Oh merda Ci sono Così tante strade Adesso non ho il tempo Per stare pure appresso a te Smeraldo grezzo Ok Che mi perdo Mi sto un attimo confondendo Allora Smeraldo grezzo Qua non c'è nient'altro Quindi non ci resta che Procedere Oddio Di qua Facciamo attenzione Perché non ho la minima idea Di dove stiamo andando A sinistra Al villaggio dei capilli A destra All'altare Va bene Questo lo immaginavamo Qua c'è un ragno Perché Di certo non ti verrò incontro Idiota Vediamo un po' dove ci porta sta luce Raga Oh merda Posso aprirlo Ok Abbiamo preso uno smeraldo grezzo Però adesso ragazzi Direi di Provare Ad evitare Altri Scontri Ma funziona anche fuori dalla Ah si funziona anche fuori Dalla battaglia Grande Oddio stavo per andare addosso al ragno ragazzi Stavo per commettere un enorme errore Qua c'è un ragno E vabbè Se io vado più su Più su Più su Oh eccola qua Una rivelazione L'ho trovata Comunque ne ho saltate diverse ragazzi Questo è poco ma sicuro Non so Non so mai decidere ragazzi Dove andare prima Effettivamente Allora Apriamo questo Rubino grezzo Non ci resta che fare attenzione ai rubi Un minimo raga Perché Ok qua cosa abbiamo Tonico purativo Va bene Prendiamo questo Perfetto Torniamo di qua allora E procediamo da questa parte Che altare è ben peculiare Forse un segno lì Dobbiamo cercare Ne avevamo trovato già un altro ragazzi Di altare così Non so se vi ricordate o no Non so cosa fare Mi ha appena salvato la partita Per cui Oh Igniculus Vola avanti tu Più in basso del basso Non uso andare giù Oh Aurora Guarda lassù Perché più in alto dell'alto Puoi andare solo tu Il profondo pozzo oscuro Quarto capitolo Ok Ehi siamo viandanti dal lungo percorso Ma non c'è nessuno per darci soccorso Non ci ha risposto nessuno ragazzi Nessuno ci ha cagato Allora La vabbè vediamo un attimo Qua possiamo bussa Ah possiamo entrare Non mi sembra molto educato Entrare così nella stanza Nelle case della gente Ma Fa niente Qua Sembrerebbe non esserci altro Non c'è nessuno ragazzi All'interno Qua possiamo entrare Spero di non incontrare tipo una strega Tipo bruttissima Una roba del genere Che mi faccia prendere tipo un infarto Qualcosa Non lo so Andare su Aprire qui Scusa scusa Smeraldo grezzo Qua posso uscire No Vabbè Non c'è altro raga Soltanto Degli scrigni Effettivamente I corvi faranno cra cra Ovviamente Per cui se io proseguissi di qua Che cosa succederebbe mai Niente Perché non ci fa proseguire raga Per cui l'unica opzione che ci rimane È andare dritti di qua Oh Gesù Perché mai un corvo dovrebbe essere ubriaco marcio Cra Cro cro Giustamente fa cro cro Ah Quanto so stupida Qua sono tornata indietro Ah prima di parlare con quell'altro personaggio Ragazzi direi di entrare qua C'è l'insegna di un boccale Suppongo che sia una specie di osteria Ecco perché tutti i corvi sono ubriachi marci Ma c'è qualcosa di utile qui dentro Madre mia come state messi ragazzi No Non c'è niente Va bene Va bene Vorrà dire che parlerò con questa Fata No Ah È un ognomo Scusate C'è il sole o la luna nel pozzo Urrà Principessa Sei giunta Ma no Proprio no Non vedete Ahahah Sono solo di nuovo Io e il nonno Siamo grandi stregoni Salviamo il villaggio dalla distorsione Ben due giorni fa io ero partito Fare provvista era la mia missione E zot La regina a tutti ha trasformato L'acqua del lete curarli potrebbe Ed io devo scendere Far come gli eroi Ma ho tanta paura Oh povero Quanto mi spiace per voi Il pozzo deve essere poco profondo Finn Forza Dai Saltaci dentro come sai Il problema di Finn Ok quindi questo si chiama Finn Aiuta Finn a trovare la fonte dell'ete La trasformazione dei capilli Può rinforzare Che ragazzi Direi di utilizzare questo puntabilità Con aumento schivata Va bene Vediamo un po' che succede Dicevi che delle magie Sai lanciare Sì principessa E sono tra i migliori Nel pozzo vedrai Se la fede è la stessa Urrà Io son Finn Io aurora E non mi chiamar principessa Perfetto Perfetto Quindi si unirà Ok Alla nostra squadra Grandiosa Ha detto che sa lanciare delle magie Quindi Magari è utile Da questo punto di vista Il che ci piace Questo posto un po' meno Effettivamente Questo è il pozzo Ammazza Oh Brr Che posto brutto Freddo come un giorno di lutto Ok Al villaggio dei capilli Si va di sopra ragazzi Non ci resta che andare di qua Che pensi di fare te? Scusa tanto Ma passo così Perché faccio prima Lucciolino Puoi aprire sto scrigno? Perfetto Aprilo pure Smeraldo grezzo Dovrei vedere a che serve Allora io non so effettivamente Dove andare di preciso Ah ok Adesso possiamo aumentare le abilità Anche di Finn Ragazzi Lui mi sa che è specializzato nella magia Allora gli aumentiamo i punti F di sicuro Gli aumentiamo La difesa magica di 5 I punti massimi della magia di 1 Ok la forza di 2 La velocità di 1 E la difesa magica di nuovo di 5 Perfetto Così almeno La fine di questa discesa profonda Ma dove si infrange dell'etelonda? Bella domanda Lucciolino Non ho idea Se lo stanno chiedendo tutti Come sempre Per qualsiasi cosa Oh merda Va bene Allora Bello Sei bellissimo Lasciatelo dire Allora qua c'è uno scrigno Che apriremo ovviamente Continuano a darmi sti zaffiri ragazzi Quei zaffiri Non so Quale sia precisamente L'accento Ok Questo posto sembra importante Oh no Oh no Già mai passeremo Ricordi la porta nel tronco Semmai Che cosa facciamo Tu aspetta tranquillo Aspetta E vedrai Ok Quindi non ci resta che fare Come abbiamo fatto Con la porta sul tronco ragazzi Allora Uno Ok La luna La luna E la luna bussò Due Ecco fatto Ma che strana opera Come si entrerà? Speriamo non ci sperisca Nell'aldilà Questo sicuramente Lucciolino Lo speriamo tutti direi Aspettate qua sotto che c'è Intanto continuiamo ad aprire Ad aprire robe Uh Questo è interessante Ok Ha bloccato tutto Per pochi attimi Quindi questo è anche interessante Qua c'è un altro scrigno ragazzi Abbiamo vinto anche Un trofeo Incredibile ma è vero Direi che il ragno Può andarsene a quel paese Lucciolino tocca di nuovo a te Amico Ahia Mi ha ferito Che male Meno male che qua c'erano Un po' di pallette Va bene Non ci resta che entrare Qua dentro ragazzi E vedere cosa c'è Qua dentro Qualcosa interessante Ah Non lo so Allora Lucciolino Mi sa che te tocca di nuovo Ok amico Perfetto Allora Andiamo avanti Oh merda Questo è di fuoco ragazzi Per cui in questo caso Magari Potrebbe essere utile Utilizzare lo zaffiro Ok Perfetto Mettiamoli anche a lui Questo Ok Proviamo Vediamo che succede Uh A te non ti aspettavo Bravario Sinceramente Aia Ah ok Seleziona compagnia Per cambiare i combattenti Per cui non possiamo avere Più di due combattenti Allo stesso tempo Vediamo un po' Cambiamo ragazzi Con Finn Eccolo qua Che entra in campo Ok Magari Monzone Può essere utile Contro questo nemico Vediamo che succede Vulnerabile all'acqua Questo Ce l'ha rimasto Chiaro ragazzi Ecco fatto Minchia È resistente È resistente Il maledetto Ok Aiaiaiaiaiaiaiai Sono forti eh Però all'amico qua non rimane molto Proviamo il fuoco su quest'altro nemico Vediamo che succede Ok è vulnerabile a fuoco guarda caso ragazzi Che culo che ha avuto Ok ce l'ha rallentato Lui è andato ragazzi Minchia quasi ce l'ha ammazza Tu sia maledetto Ok utilizziamo questo di nuovo Ok è andato è caduto Perfetto ho preso le varie pallette Rubala è salita di livello Grandioso Dobbiamo scappare di qui Stai calmo non devi temere Ma noi siamo in pochi eppure piccini Potremmo di certo cadere Devi calmarti Capito? Te devi calmare Perché così Non si va da nessuna parte Capito? Allora non riesco a vedere ragazzi Niente va bene? No di qua non si passa Ah qua sotto si però Oh merda Allora l'ucciolino Mi fa il gran favore Di aprire quello Che ci ha dato uno zaffiro Levigato Il che forse E dico forse Potrebbe essere Più Come si dice Sofisticato Dello smeraldo grezzo Cioè almeno a parole Sembrerebbe essere così Per cui Ok rubella Direi che questo potrebbe essere buono Un attacco acrobatico Contro una creatura oscura Ok prendiamolo Vediamo un po' di mettere Uno zaffiro levigato Aumenta pure la potenza All'attacco dell'8% Perfetto Ok andiamo avanti così Oddio Apriamo questo Eccolo là Apriamo questo Elisir della fretta Va bene Quanto so stupida Ok Facciamo piano Possiamo pure evitare A sto punto di usare l'ucciolino Se la cosa non è troppo Impossibile Ovviamente Ok ci servono più punti vita ragazzi Perché non è che siamo rimasti Molto bene dopo l'altra battaglia Per cui forse Utilizzerò Un tonico curativo Perfetto Allora Andiamo di qua Non ci resta che proseguire così Ah ma qui sono Siamo tornati indietro Ma che davvero Non c'è sto a credere ragazzi Cioè sono tornati indietro Non so se ci rendiamo conto Ed io ero convinta di andare bene Ah E qua Cosa c'è qui No Non può essere Avvo Parlami Cra Non credo ai miei occhi Su Un poco di menta Mi duele la testa E perché mai dovrei averne con me Ahimè Niente menta Peggio degli uccelli Perché sei arrabbiato Sono anche belli Mio nonno è quest'uccello Sarà forse per quello Troveremo il rimedio Per il magico effetto Quest'oggi Dovevo restarmene a letto Ok quindi Questo è il nonno Di fin Meraviglioso Stato trasformato In un corvo Malefico Ok abbiamo preso Un'altra rivelazione Ragazzi Se volete leggerla Qua ce l'avete Prendiamo le altre Pallette Ovviamente Qua sotto Cosa c'è Uno scrigno per te Caro ucciolino Ok Tonico curativo Per fortuna ragazzi Che ne stiamo trovando Perché Se no Staremo Abbastanza Nella cosiddetta Cacchina Diciamocelo Qua c'è uno scrigno Apriamolo Ok Uff Immagino che per proseguire Dovrò passare di qua Non so perché Ma ho proprio questa letta Magari posso fare così Guarda ecco Mi tolgo Aghiala Conce tu madre Mi tolgo tutti i problemi Vai Forza Approfittiamo di questo Perché se no Vieni qua l'ucciolino Che non vedo una cippa Di niente Senza le tè Oddio Perché trema tutto Che sta succedendo Che sta succedendo Forse siamo vicini Al nostro obiettivo Oddio Non ero pronta A una boss fight Oddio Che sono Tipo delle murene Oddio raga Sono nella cacca Sono nella cacca Allora Attenzione Il monsone Sulla testa Questa di fuoco Poco ma sicuro Dopodiché Direi di utilizzare Questo raggio di luce Se ce la faccio Contro questo Perché mi hanno interesse Ah ecco Me l'ha paralizzata Fantastico Fantastico Davvero Colpo Colpo Non so che sto Che sto facendo Che sto facendo Merda Mi ha interrotto So poco Proprio di sì No Dale Fini Ok Ecco qua Di sicuro Ovviamente Cioè ragazzi Cioè ragazzi Ma è possibile Che ogni volta Mi deve interrompere Cioè questo Mi fa girare Proprio le Le cosiddette Diciamocelo Sarà difficilissima Sta cosa Non so se posso Esserne capace È andata Niente L'ha usato Su di sé Ovviamente Non ce la farò mai Raga Non ce la farò Ho sbagliato Pure la testa Non ce la farò mai Cioè se ogni attacco Me lo interrompe È impossibile È impossibile Raga Non ce la farò mai Proviamo Con Rubella Ma La vedo Molto 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 Difficile Utilizziamo colpo Su una di queste Ragazzi Rubella Almeno È veloce Ma Non so Quanto potrà Essere utile Sta cosa Che Sono Sono forti Sono forti Ovviamente Me li hanno interrotti Entrambi Porca pupazza Sì ma così è impossibile Cioè raga Non ce la faccio Io non ero pronta Non me l'aspettavo Minimamente Poi tra l'altro Cioè Io direi che Probabilmente la prossima Volta Riprenderò Da qui Ragazzi Ma Cioè Sto nemico È troppo Forte Se avete Dei suggerimenti Da darmi Ovviamente Ragazzi Saranno Bene Accetti Io ci riprovo Raga Ma È l'ultimo Tentativo Anche perché Se no Questo video Durerebbe Troppo Un'eternità Io veramente Non so che dire Raga Non mi aspettavo Una cosa del genere Vi prego Di darmi Dei suggerimenti Perché Suppongo Proprio Che Per adesso A meno che Non devo Che ne so Farli salire Di livello Perché se no Non ho la minima idea Di come fare Perché sono Tre attacchi consecutivi Praticamente Tipo a manetta Ed è una cosa Allucinante Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Adesso a tutti Ragazzi Ciao